Musica Sono Maria Elena Bencivenga e rappresento Associazione Insieme che in questi anni si occupa di comunità per il recupero delle dipendenze patologiche ospitare qui dei ricercatori nel bel mezzo della settimana e nel bel mezzo della mattinata è per noi sintomo di grande fermento culturale ed ha anche un grande significato socio, politico e culturale dei ricercatori che vengono qui tra di noi, che ci riabilitiamo e ci prendiamo la vita e la cultura ha un significato notevole. Grazie a tutti Salve, sono Fabio Donnici, sono un ricercatore in archeologia classica del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università della Basilicata e sono molto lieto oggi di offrire un mio contributo all'interno delle manifestazioni della Notte della Ricerca presso l'Associazione Insieme Onlus di Potenza La Notte della Ricerca è una manifestazione che consente a noi ricercatori universitari o del CNR di interagire con le persone, con i non addetti ai lavori e di far comprendere il valore sociale e scientifico delle nostre ricerche alle persone per cui per me oggi è un grande privilegio essere qui ed è un grande privilegio aver parlato ai ragazzi dell'Associazione di una tematica secondo me molto interessante per un archeologo o comunque per chi si occupa di storia antica cioè quella dell'ecologia, del rapporto tra uomo e ambiente nell'antichità è una tematica molto interessante perché di stretta attualità ed è una tematica che ci fa scoprire un mondo che aveva già le sue problematiche ambientali a partire da oltre 2000 anni fa e che ci può insegnare a non commettere gli stessi errori che sono stati commessi in passato grazie a tutti Grazie a tutti.